amici sportivi buonasera e benvenuti a da tutto campo il pescara viene sconfitto è stata una sconfitta abbastanza sfortunata via dell'autogol all'adriatico con il perugia mentre il pineto ha pareggiato con la virtus entella in classifica il pescara è scivolato al sesto posto con un punto di vantaggio sul gubbio e due punti sull'arezzo che sarà il prossimo avversario dei biancazzurri si giocherà domenica dunque a nella città toscana a rischio anche i playoff ce lo chiederemo con gli ospiti di questa sera che presento un saluto a Walter Nerone buonasera 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 ben ritrovati ben ritrovato a Giorgio Repetto buonasera Giorgio buonasera a tutti quanti questa sera non è a pescara ma è qui nella sede di Giulianova Silvio Sarta buonasera ho fatto un po' di chilometri buonasera a tutti buonasera andiamo agli ospiti di Pescara dove troviamo Alessandro Alberti buonasera Alessandro tutti auguri di buon anno innanzitutto grazie un saluto anche al musicista Simone Pavone che ritroviamo ciao Simone ciao buonasera a tutti ben ritrovati anche da parte mia un buon anno grazie abbiamo naturalmente in studio Manuel che ci presenterà una vignetta di che cosa ti occuperai questa sera allora innanzitutto buonasera a tutti e come ti stavo accennando prima dell'inizio della puntata realizzerò un qualcosa riguardante l'autogolo comunque la sconfitta che il Pescara ha subito contro il Perugia e più tardi vedremo cosa realizzerò bene allora a questo punto sigla sono seduto sopra una panchina qui fermo ad aspettare e c'è un pallone sta viaggiando sul prato e quando arriva mi farà sudare ma devi quando arriverai sono così teso questa palla non arriva mai chissà che faccia che farai quando la vedi alla televisione rimarre senza farò e clicca se seguici per la prestazione perché avevamo di fronte Perugia che a parte ultimi acquisti è una buona squadra esperta e si è visto noi magari ci siamo cascati cinque cinque ammunizioni nel primo tempo per me sono troppi anche lì forse la scuola si è nervosita un po' e in più quando sbagli il rigore ti fai autogol prendi palo e non vinci è brutto ma ci dobbiamo ci dobbiamo risvegliare è rimesso in campo Vergani oggi forse non è riuscito a fare come avrebbe dovuto no io sono contento di quello che ha fatto a parte il rigore il rigore si tira di solito forte questa volta ha cambiato non so perché abbiamo pagato i fischi e le critiche del pubblico alla fine io non sento mai fischi voi li dite è normale ripeto abbiamo perso la partita tifosi non possono essere contenti come non siamo contenti noi allora questi concetti espressi da Zeman al termine della partita con il Perugia li facciamo riascoltare perché c'è uno Zeman che ha inserito in campo nella formazione Vergani che è un giocatore che dovrebbe partire rimasto anche soddisfatto di quello che ha fatto un po' meno il pubblico e non solo perché ha sbagliato il rigore comunque commentiamo queste parole di Zeman ma io tornerei anche sulla domanda che ho fatto all'inizio l'opposta così ma sono a rischio anche i playoff vista la situazione di classifica Walter Oddio la classifica è ancora abbastanza corta escluso il primo e secondo posto ovviamente quindi ci può stare che arrivi terzo ci può stare che vai fuori non vedo al momento il pericolo così praticamente ai quattro punti dal terzo posto e quattro punti dal decimo non mi pare di vedere pericolo incombente anche per non se ne vogliono però hai l'Arezzo sì ma tranne l'Arezzo non mi pare di vedere corazzate là dietro no in grado di cacciar fuori il Pescara dai playoff teoricamente l'Entella potrebbe voler voler tentare il riaggancio eppure il sorpasso ne avrebbe sulla carta qualche titolo ma se il Pescara regge il ritmo non vedo il pericolo di andare fuori dai playoff certo che fare i playoff dal settimo posto piuttosto che dal quarto o dal terzo cambia moltissimo perché non solo te li devi fare tutti come succede se arrivi quinto o sesto ma addirittura se arrivi ottavo no no ti devi fare tutte le partite iniziali con lo svantaggio di avere un risultato quindi sarebbe gravissimo finire lì quindi non vedo il pericolo incombente ma inviterei a non sottovalutare l'evenienza dopodiché se il mister è contento della prestazione con il Perugia che cosa bisogna dire mica si può dire non devi essere contento io spero che poi nello spogliatoio abbia detto cose un po' diverse perché il Perugia ha fatto sicuramente il minimo sindacale ma il Pescara a parte qualcosina all'inizio diciamo sì il rigore fa pensare a chissà che il rigore si può anche sbagliare fra le tante sciocchezze che si possono fare in campo sbagliare un rigore secondo me è uno dei meno scandalosi quello che mi pongo io il problema invece per esempio è perché fai giocare Vergani qualcuno mi ha fatto una battuta l'ha fatto giocare per fargli salutare il pubblico alla fine insomma il saluto non è stato dei più affettuosi se saluto si rivela se invece resta come è ancora possibile io considero un'altra opportunità persa è un altro modo di aumentare la confusione che già c'è ecco a proposito di confusione Giorgio continua Zeman ad affermare che Cuppone corre ma fa confusione ma alla fine quando è entrato direi che ne ha fatta un po' meno di quella che c'era prima ma io non so se vado controcorrendo forse la penserei come me ma a me pare che stia facendo un buon campionato si apre un passaggio facile per i centrocampisti forse non ha quelle caratteristiche di palleggio che magari cercava anni fa Zeman nei centravanti di Baiano e qualcun altro però il suo lavoro credo che abbia fatto anche 7-8 gol 7 gol, quanti gol ha sai? 7 anche poi quando è entrato domenica lunedì ha fatto bene per quello che si poteva fare mi sembra ha preso un sacco di punizioni ha fatto ammonire i giocatori avversari è arrivato al giro che per poco fa un gol di tacco eccezionale non dico che è un gran giocatore oggi credo che sia l'unico anche perché Tomasini l'abbiamo praticamente mai visto e non lo vedremo e quindi Vergani l'altro giorno ha giocato quando non si sa si è sempre letto sul giornale che era in partenza io ero anche questa è una cosa sempre che abbia rifiutato anche la Carraresa la cosa che mi ha fatto un po' che mi ha sorpreso è stata le due partite in cui c'era un giocatore come Manu che era sicuro che andava via e non aveva più giocato e ha giocato il primo tempo credo almeno poi l'aveva cambiato domenica ha giocato Vergani che nessuno se lo aspettava e credo che lui tenda sempre insieme a stupirci però a prescindere da quello mi sembra che il Pescara la partita sicuramente il risultato più giusto era un pareggio perché sono state due squadre che si sono equivalse il Pescara ecco questo è il colpo di attacco di Chimpone il Pescara in attacco ha fatto qualcosina in più qualcosa in più del Perugia era anche giusto che lo facesse visto che giocava in casa insomma aveva una possibilità di superare il Perugia Perugia il pari andava bene Sì è logico poi capitata questa disavventura che può succedere ci ha creduto nell'azione chi era che il giocatore del Perugia che si è involato sulla sinistra ha messo questo cross e può capitare di sbagliare l'intervento poi è andata a finire proprio nel 7 la palla però la partita onestamente il Pescara l'ha giocata discretamente poteva anche vincerla poteva pareggiarla e purtroppo poteva anche perderla e se non so si sono lamentati anche loro dicendo che il gol del centroavanti era in selezione regolare io non so no la sensazione è che lo fosse non l'ho rivisto non l'ho rivisto quindi c'è stato il rigore sbagliato di Vergani il gol se era gol del centroavanti di Silla il gran tiro di De Marco sulla traversa credo che era l'autorete finale quindi credo che il pareggio sarebbe stato più giusto però non è stato il Pescara che volevamo che ci aspettavamo sì la cosa strana è stata che Zema l'ho trovato strano nelle dichiarazioni del dopo Juventus in cui diceva di non essere rimasto contento della prestazione dei giocatori che l'avrebbe cambiato tutto poi il sabato prima della partita col Perugia ha detto che la squadra aveva giocato una buona partita che gli era piaciuto sia il primo che il secondo tempo quindi sono rimasto un po' così per me il Pescara aveva fatto un gran bel primo tempo a Torino e quindi aveva fatto una squadra che va fuori casa e fa tre gol si fatica a dire che abbia fatto una brutta partita poi magari se fai tre gol preferiresti vincere questo è fuori di dubbio non è usuale fare tre gol fuori e non vincere allora Silvio Zeman ha detto di non aver ascoltato i fischi lui dice io non li ascolto mai ma evidentemente glielo hanno riferiti però i fischi ci sono stati secondo te ha ragione? ma io faccio un discorso un po' più ampio sono così mi sono autocondannato da quando faccio questo mestiere a fare questo e penso che la comunicazione non è un problema del Pescara la comunicazione del presidente dell'allenatore in questo caso Zeman che mi pare che si sia un po' si sia un po' avvitato nell'ultimo periodo ad essere sempre Zeman quindi o dice con la solita come dire anche Erguzia certamente dice un po' le stesse cose e anche nelle contraddizioni dice un po' le stesse cose è una comunicazione un po' piatta e oltretutto credo che sia anche e continui ad essere insidioso fare questo discorso per quanto sia inattaccabile delle che ho sentito fare anche dal presidente nelle dichiarazioni post partita però il terzo posto è a quattro punti però corriamo più degli altri e corriamo più degli altri e anche questa è un po' una dichiarazione strana perché se si corre più degli altri si dovrebbe essere lucidi negli ultimi minuti mi sembra che la lucidità negli ultimi minuti al di là della sfortuna ma parlare sempre soltanto della sfortuna è una vecchia e brutta abitudine del calcio o di altre cose anche quando esiste anche quando esiste perché allora negli ultimi minuti il pescare è sempre sfortunato o comunque è già la terza o quarta volta in questo campionato che è sfortunato l'intervento per quanto disgraziato e scomposto che ha determinato l'autogol è un intervento scomposto dunque sbagliato per chi corre di più negli ultimi minuti forse corre male poi si potrebbero dire un milione di cose si dicono però sempre le stesse cose in fondo non c'è questo grande pericolo il terzo posto è a quattro punti e si scivola sempre l'indietro io credo che ci voglia invece un po' di consapevolezza sulle reali caratteristiche della squadra e sulle reali potenzialità della squadra al mio fianco con gioia lo dico c'è e ripeto che è l'autorità assoluta da questo punto di vista che mi ricordo alcune settimane fa prima della fermana con un pizzico di ottimismo ha detto comandano i numeri sono d'accordo e con una tabella ci sono delle partite assolutamente abbordabili se si vuole recuperare facciamo nove punti ed era ed è stato nei pronostici una dichiarazione assolutamente fattibile è arrivato un punto su nove la tabella purtroppo secondo me non si può fare e non si deve fare questo è un pescare bipolare suo malgrado che dopo prestazioni fantastiche e quattro gol in trasferta incappa nelle serie nere però troppe volte Zeman mi sembra ripeto in qualche modo incartato nel suo essere Zeman e da un giorno all'altro tutti bravi tutti meno bravi fino alle declarazioni finali che insomma vabbè allora nel calcio bisogna vincere bisogna fare un gol in più vabbè d'accordo lo sapevamo inutile fare le interviste per per avere questa grande e questa grande certezza più consapevolezza e meno comunicazione che alla fine non è e nessuna tabella perché ormai non c'è più tempo per fare tabella c'è però in corso il mercato il calciomercato di gennaio e le dichiarazioni della società sono queste dobbiamo prima sfoltire la rosa prenderemo un attaccante e una mezzata però dobbiamo prima sfoltire la rosa adesso stiamo vedendo lo sfoltimento della rosa perché non c'è non c'è altro per il per il momento mi sembra che già in parte si è stata sfoltita perché sì però non abbiamo visto ancora no no vabbè l'attaccante la mezzata va bene però i tre quattro che sono andati i giocatori stati via ci sono mi sembra sì 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 certo portiere di riserva Manu Tomasini e Mola e forse adesso ci sono Vergani che potrebbe potrebbe andar via e vedremo poi chi verrà se è la Carrarese mi dicono che l'ha rifiutata era cercata dalla Carrarese forse perché l'allenatore che ha preso lo conosceva lo conosceva già non lo so comunque mi dicono che l'ha rifiutata la Carrarese poi può darsi che sia anche una questione non verrà San Nipoli San Nipoli è andato a Pinetto a proposito e vabbè staremo a vedere allora ascoltiamo sul mercato su queste prime operazioni Alessandro Alberti Alessandro tu che ne pensi io sicuramente il mercato finisce il 31 quindi credo che se Vergani è destinato ad andare via indiscutibilmente un attaccante dovrà arrivare non posso ipotizzare che Pescara arrivi da qui alla fine con eventuali playoff solo con Cuppone davanti e voglio tornare anche a ciò che hanno detto un po' tutti e tre gli ospiti in particolare Walter Nerone con il quale spesso sono anche ospite sono stato ospite in passato si evidenzia si evidenzia sempre il fatto che il terzo posto dia dei vantaggi in fase finale voglio solamente ricordare che questo vale fino alla semifinale tante volte l'anno scorso sostenevo che il terzo posto si ti aiutava nelle prime partite però se andiamo a rivedere le semifinali dell'anno scorso il Pescara ha giocato contro il Foggia che aveva giocato nello stesso girone del Pescara ed era arrivato dietro al Pescara addirittura nell'altra semifinale hanno giocato il Cesena e il Lecco che hanno disputato il campionato in due gironi diversi vi voglio ricordare che il Lecco l'anno scorso ha fatto 17 e sottolineo 17 punti meno del Cesena il problema di fondo dei playoff è che poi si arriva in semifinale e si azzera tutto è una cosa che io avevo fatto notare se Walter si ricorda più di una volta quindi si è vero che arrivare terzi ti dà il vantaggio delle prime partite però anche questo format che a me non piace non mi trova d'accordo nel momento in cui tu arrivi alla 44esima giornata di campionato e vedi praticamente azzerato tutto ciò che hai fatto prima quindi credo che nel Pescara nel caso del Pescara stando il format uguale a quello dell'anno scorso stando anche a ciò che ha detto Silvio Sarta con il quale concordo questa è una squadra che ha alti e bassi quindi tutto sommato ha la posizione in classifica che si merita credo che forse al di là di chi debba arrivare a Pescara forse sia importante per il Pescara arrivare in una condizione fisica buona nelle partite che contano poi se arrivi terzo o quarto lascia un po' il tempo che trova certo è che l'anno scorso è fuori discussione che le squadre che sono state massacrate penalizzate dal format dei playoff sono stati il Pescara e il Cesena perché il Pescara nonostante si sia fatto acciuffare al 97esimo al 98esimo non avrebbe mai e poi mai dal mio punto di vista disputare nei supplementari nel calcio di rigore nell'altra semifinale il film è stato il medesimo quindi l'Eco ha fatto 17 punti del Cesena e oggi è in Serie B il Foggia è arrivato rincorrendo perché ha rimontato delle partite clamorose credo una col Monopoli da 0 a 3 a 4 a 3 ha fatto un cammino stratosferico però poi alla fine conti fatti il terzo posto ha lasciato diciamo il tempo che trova quindi diciamo che evidentemente la posizione in classifica vale fino a che poi arriva lo spareggio non mi piace che nel momento del semifinale francamente venga riazzurato tutto ciò che hai fatto negli 11 mesi prima mi sembra una cosa veramente fuori luogo bene allora ascoltiamo a questo punto anche Simone Simone che ne pensi tu della reazione del pubblico abbiamo già detto dei fischi ma anche di qualche strigione che adesso vedremo che è stato messo credo allo stadio insomma c'è una profonda delusione e un attaccare un po' tutti a partire dalla società sì queste sono le condizioni che purtroppo ci troviamo a vivere quando la squadra vive questi alti e bassi poi sappiamo benissimo che Pescara è un ambiente umorale quindi si fa condizionare nel bene e nel male di facilissimi entusiasmi quando la squadra regala bel gioco e belle prestazioni e risultati e poi si lascia insomma cadere giù in una sorta di depressione quando le cose vanno male come dicevate voi secondo me la squadra dovrebbe la squadra la società tutto dovrebbe concorrere a regalare all'ambiente un minimo di equilibrio quindi però credo che questo non succeda da un po' di tempo perché sugli entusiasmi si prende la palla al balzo e si vola dicendo abbiamo fatto tutto bene siamo dei fenomeni e quando si va invece in queste situazioni si cerca di mi sembra io non voglio sforzarmi di dire cose interessanti però si cerca di dare la colpa sempre a quello vicino questo è l'impressione e i ragazzi i ragazzi si sentono io parlo di ragazzi della curva i ragazzi della tifoseria si sentono a volte un po' abbandonati e quindi per quanto non userei io quei termini che sono stati utilizzati perché comunque a mio modo di vedere il rispetto per le persone che lavorano dovrebbe essere comunque sempre il primo punto però sono anche un pochino da comprendere perché insomma l'anno scorso è arrivato Zeman io parlo da ragazzo della curva è arrivato Zeman ed è arrivato dicendo che comunque l'obiettivo sarebbe stato quello di preparare la squadra ai playoff e apro e chiudo parentesi sono d'accordissimo con Alessandro sul discorso dei playoff questa formula è veramente toglie poesia al calcio io da musicista se togliete la poesia e la comunicazione e mi rifaccio a quello che diceva Silvio lamentandosi della comunicazione piatta da parte degli esponenti del Pescara però caro Silvio trovami due personaggi nel calcio italiano che non siano piatti io forse mi ricordo Gianluca Vialli che rilasciava dichiarazioni mai banali ogni tanto Murigno quando non esagera un paio di allenatori qui e là però gli esponenti del calcio allenatori e calciatori vivono di un piattume in generale per paura di dire una cosa di troppo che non ha nulla a che fare con la comunicazione poi tu sei un grandissimo comunicatore quindi ne converrai con me quindi tornando all'idea dei tifosi non posso condividere l'utilizzo di una certa terminologia che mi dispiace dirlo però offendere le persone non è mai bello d'altro canto i ragazzi che vanno allo stadio che fanno chilometri per andare in trasferta che sono sempre lì con il freddo con la pioggia a volte si sentono soli questo bisogna dirlo allora adesso c'è la pubblicità e poi torneremo partendo da delle monache pubblicità ci sono le sue se e torniamo in diretta quando sono le 21 e 29 anzi 21.30 in questo momento stavamo parlando della punizione che in effetti poi l'arbitro aveva concesso e poi ha annullato. Allora l'arbitro ha preso una topica aiutato dall'assistente dal lato dei distinti che evidentemente aveva visto meno di lui. Quindi dal punto di vista tecnico non è successo niente di scandaloso. Un arbitro che si accorge di aver sbagliato, indicato male la direzione, eccetera, prima che riprende il gioco può cambiare la decisione. Quello che in questa situazione fa gridare allo scandalo e sotto certi aspetti non gioverà alla carriera dello stesso arbitro è la percezione nitida che la correzione gli sia stata suggerita. Dal quarto uomo. Non essendo previsto, ma non solo dal quarto uomo, ma dal quarto uomo dopo che lo stesso è andato a guardare o ha guardato le immagini, ovvero qualcuno gli ha detto all'auricolare, guarda che a rallenti non è così. Quindi questa cosa, essendo in Serie C non previsto il VAR, questa cosa non gioverà alla carriera dell'arbitro di cui non ricordo il nome e forse non farò in tempo neanche impararlo perché non me l'aspetto a breve scadenza su palcoscenici interessanti. Se si comporta così, io dicevo prima con Giorgio, ai tempi nostri del calcio un po' più paesano, l'arbitro in questi casi ricorreva al famoso fallo di confusione, tu fai battere la punizione, appena parte la palla, fischi un fallo, la palla la dai all'altra squadra e va bene tutto così. E tutelava un po' anche la sua valutazione. Allora, prima ho detto parleremo di Delemona. Stavo guardando, però devo dire questo, stavo guardando le immagini e ho visto il rigore di Vergani, no? Non avete l'impressione che Vergani e anche molti allenatori facciano fare, lui in prima persona in questo caso, che copino i movimenti di giocatori diversi, no? I giocatori che guardano il portiere, fanno questo passo e lui ha cercato di battere un rigore. Ma è evidente Giorgio che voleva... Alla Giorginio... Voleva scimiotare qualcosa che ha visto in televisione, no? Eh? Dai. Ha voluto scimiotare qualche gesto di qualche campione di visto in televisione, ha fatto una figuraccia. Stavo dicendo proprio quello, l'impressione che abbia voluto scimiotare. E molti allenatori vogliono scimiotare il gioco da dietro, ora questo passaggio infinito, portiere, terzino, portiere, centrale. La maledetta costruzione del barso che sinceramente ci vogliono piedi, tranquillità e organizzazione, che non è troppo facile. Hai ragione. O no? Hai perfettamente ragione. Scusa, no no, io sono d'accordo con te, probabilmente il mio commento arriva un po' in ritardo, ma stiamo dicendo le stesse cose. Quello dicevo, e a lui è lì ha scimmiottato qualche giocatore che ha visto in televisione. Allora, delle monache, si parla, si continua a parlare ancora di delle monache. Beh, delle monache io non lo so, mi pare che stasera giocassi. No, alla fine non ha giocato. Allora, è chiaro che... Sto perdendo 2-0, adesso entrerà... Il delle monache dell'anno scorso, specialmente degli spareggi, è stato devastante, perché Verona ha fatto delle partite eccezionali. Io sono, ero e sono convinto, mi chiamò una tv di Genova quando è andato su, ero convinto e sono ancora convinto che ci poteva tranquillamente stare nella squadra. Poi non so che tipo di modulo abbia usato ultimamente, mi sembra che ultimamente avesse messo anche la difesa a tre, in cui chiaramente lui all'esterno faceva fatica. Al Pescara farebbe comodo sicuramente, però in quella zona del campo mi sembra che due ragazzi si siano mossi bene, sia a Cornero che a Cangiano. E delle monache credo che giochi sicuramente a sinistra, se non l'ho visto mai giocare a destra, magari è bravo anche dall'altra parte dove c'è Merona però. Quindi potrebbe essere un passaggio buono, ma io credo che delle monache possa avere mercato in questi sei mesi finali di serie B, anche in serie B in qualche altra squadra che non sia la Sampdoria. Ma io fossi procuratore delle monache, come direi, farei minare tutti i ponti piuttosto che riportare delle monache. Sarebbe un passo indietro in questo momento. Lui è un giocatore che se vai in una squadra... Io penso che fisicamente Zeman l'anno scorso l'avesse veramente poi messo su bene, perché era molto diverso dalla struttura fisica di fine anno con Fratelli all'inizio, era un po' un ragazzotto così, invece quando l'ho visto giocare negli spareggi fisicamente stava benissimo, tonico, bene, correva a tutto campo, ha fatto delle partite eccellenti. Credo che se vai in una squadra che gioca a 4-2-3-1, 4-3-3 e gli danno la possibilità di giocare 2-3-4 partite di seguito, lui secondo me fa bene. Ma allora a questo punto il Pescara cerca sempre l'attaccante. L'attaccante è probabile, Silvio, che si trovi nelle ultime ore di mercato, insomma perché è avvenuto quasi sempre così con il Pescara. Il giorno della chiusura del mercato si sono fatte operazioni più o meno in fretta. Vedi qualche personaggio, tra virgolette, all'orizzonte che possa fare al caso del Pescara per quanto riguarda l'attacco? Ma guarda, non lo so, io ho letto nelle ultime ore di un interessamento particolare nei confronti di un giovane che gioca in Olanda. In Olanda, Danimarca. Se non sbaglio. Allora qui si entra, come sanno tutti ormai, non soltanto a Pescara, in particolare a Pescara, si entra in un discorso ancora più scivoloso delle manovre o comunque dei calcoli dei procuratori che fanno arrivare le trattative, anche quelle sensibili, fino all'ultimo istante. È un'abitudine, credo, sulla quale, almeno nel breve termine, nulla noi, virgolette, osservatori, meno che mai tifosi, possano fare qualcosa e quindi ogni pronostico è assolutamente inutile da questo punto di vista. Se mi consenti un istante un giudizio invece sullo strescione, sull'atteggiamento dei tifosi che inevitabilmente poi tracimano nelle invettive, nelle volgarità. Io devo dire che la tifoseria del Pescara è assolutamente esasperata, come poche altre, io credo nel panorama significativo, almeno della serie B e della serie C. È una tifoseria esasperata e, al mio avviso, questa esasperazione, esasperazione sportiva però, poi quella calcistica, travalica, molto spesso che ci piaccia o no, è sempre stata sottovalutata. Io veramente vorrei che non si sottovalutasse più questa esasperazione dei tifosi. E lì la comunicazione, ha detto belle parole nei miei confronti, lo ringrazio, Simone, ciao Simone, come stai? Ma la comunicazione diventa ancora più importante, deve essere meno paludata, deve essere meno ammantata di superiorità, deve essere più chiara, anche se a volte può costare l'impopolarità. Io sono sicuro che i tifosi del Pescara, che sono moltissimi, tra l'altro, quelli giovani, apprezzerebbero di più una comunicazione meno mascherata e anche più umile e sarebbero meno esasperati. Poi, per carità... È una comunicazione schietta, scuola marchese del Grillo, quello che viene fuori. Ecco, noi siamo noi e voi non siete. Niente. Però, però, però voglio dire, clima esasperato, ma l'altra sera, ma quello stricione comunque non si accetta. Mi piace, si capisce il tifoso che si va a prendere il freddo e poi torna a casa deluso e viene lusingato con dichiarazioni magari perfino avventate, però oltre certi limiti non si va. So che c'è stato anche un daspo per un altro atteggiamento censurabile. Mi meraviglia che non vengano individuati gli autori dei lanci. L'altra sera, per un po' si è rischiato anche la sospensione della partita perché sembrava la Valpadana dei tempi dei grandi nebbioni, l'Ortario. Cioè, è un contesto che, mentre intristisce dal punto di vista tecnico-sportivo, mostra qualche criticità dal punto di vista ambientale. Questo mi dispiace perché come appassionato sono deluso come e anche di più di molti tifosi, però da qua ad attaccare certi manifesti, no. Non sarò mai d'accordo. Non sarò mai d'accordo. Sono d'accordo con te, Walter. Non si giustificano mai. Poi le invettive no. Sembra i fischi tanti. Quando ne vogliamo gli applausi. Fischi, fischi per nacchie, diserti lo stadio, contesti la squadra dialetticamente, a parole, con slogan, ma certe, diciamo, certe terminologie per giunta, messe, allo stadio, qualche parola proprio non da galateo, si ascolta in tutto il mondo, ma lì fa parte di un contesto. Quando l'atteggiamento, il testo, l'insulto, chiamiamolo col suo nome, è rimeditato e poi trasferito su strumenti, si comincia ad andare, perché poi dietro un atto magari genuino si nasconde sempre il famoso imbecille che ne prende spunto per alzare ancora di più il tono e finisce diciamo nel modo peggiore. Questo non si può giustificare mai e in nessun modo. Stava intervenendo Simone, forse su questo, Simone? Sì, anche perché credo che a livello proprio di comunicazione sia anche completamente inefficace, cioè una comunicazione così offensiva è un po' come il papà che dice al figlio, cioè è ripetitiva comunque, è un po' come il papà che dice al figlio in maniera superficiale mi raccomando comportati bene non farmi arrabbiare, il figlio non lo ascolta neanche. Io sogno una comunicazione dei tifosi con un senso dell'umorismo, mi rifaccio a stricioni che hanno fatto la storia, adesso non vorrei ripeterli però c'è quello dei famosi tifosi napoletani nei confronti dei veronesi che si riferiva a Giulietta oppure quelli dei laziali nei confronti dei umanisti, secondo me rimangono nella storia della comunicazione e sono anche molto più efficaci se si volesse smascherare un certo comportamento come stavamo dicendo prima secondo me il senso dell'umorismo è più efficace che l'offesa questo lo dico e poi volevo tornare e risaluto ancora mando i saluti a Silvio e il fatto di scimmiottare come diceva Alessandro quello è stato chiaro forse è stato il caso poi che sia avvenuto a breve distanza dal rigore di Milik ce l'abbiamo tutti negli occhi quello di Vergani e la mancanza di personalità che questo succede anche nella musica c'è un musicista che funziona in un certo modo e tutti i ragazzi e i discografici vanno dietro quel musicista e cercano di scimmiottare di rifare la stessa cosa va forte il gioco da dietro il rigore con il saltello e gli allenatori consigliano visto che quello produce risultati facciamolo anche noi è una totale mancanza di personalità che mi fa tristezza nella musica quanto mi fa tristezza nel calcio però sottolineo ancora una volta non so se sono stato frainteso nella difesa dei tifosi che vanno in trasferto che prendono il freddo io è assolutamente l'offesa mai e poi mai e poi ripeto secondo me è un modo di comunicare assolutamente non efficace cioè io sogno dei tifosi dei ragazzi dalla curva con il senso dell'umorismo che secondo me sarebbero più efficaci ecco questo grazie comunque io non ho giustificato nessuno ci tengo a ribadirlo però ribadisco anche ribadisco anche che l'esasperazione che come mi insegnate è un atteggiamento patologico rispetto alla normalità e poi porta in ogni caso a delle a delle esagerazioni a delle patologie ulteriori da questo punto di vista allora io credo che poi tutti gli attori tra virgolette di queste dinamiche facciano parte di un sistema che ha smarrito ogni tipo di equilibrio su questo non ci sono dubbi sul fatto che però in ogni caso ormai da anni le parti non si parlano si parlano completamente in maniera sbagliata questo è assolutamente indubitabile e poi i delinquenti o comunque le persone che sbagliano da questo punto o che approfittano degli stati di agitazione generale vanno perseguiti e puniti sì sì ma infatti questa è la cosa cioè a volte io faccio sembro stesso esempio a me io accetto diciamo la cosa perché diciamo è una disposizione una regola a me tolgono il tappo della bottiglietta dell'acqua minerale non posso accettare che nello stadio poi sfugga al controllo un po' di tutto allora se i controlli ci devono stare quando io arrivo con la borsetta lo sapete ho l'acqua minerale qualche volta una volta il panino con la porchetta puntualmente arriva lo steward e mi toglie il tappo e fa bene perché la disposizione è quella ma probabilmente è l'unico steward lo incontro io che controlla queste cose le telecamere lo zoom l'alta l'alta definizione e tutto il resto non serve a niente per scongiurare dopodiché quello striscione lì secondo me andava rimosso sette secondi dopo che era stato messo per una questione anche perché probabilmente è uno striscione di pochi si si ma anche se anche se fosse di molti e diciamo di gente che voleva solo manifestare di senso nulla di più però è uno striscione diciamo civilmente inaccettabile e quindi posso capire con chi ce l'hanno posso capire perché ce l'hanno ma se io fossi stato il responsabile dell'ordine pubblico l'avrei fatto rimuovere sette secondi dopo se no che mi ci mandano a far controllare ste cose allora Alessandro perché secondo te manca totalmente il dialogo tra la società e i tifosi almeno questa società ma questa è una situazione che va che ormai va avanti da tanti tanti anni ma tra le altre cose credo di aver recentemente detto qualche cosa del presidente dove dice che lui può andare avanti da solo senza tifosi dice bene Silvio Sarta quando parla di comunicazione perché ci lancia anche un messaggio molto chiaro almeno credo di aver interpretato quello che dice lui cioè non si può pensare in una realtà soprattutto fragile modesta come quella di Pescara che la tifoseria la città sia in un corpo estraneo rispetto alla squadra però questa frattura questo distacco non è una cosa di oggi la situazione di oggi è figlia di tante annate vissute a livello proprio di rapporti nella stessa maniera poi indiscutibilmente sfociano in striscioni offensivi dove non sono d'accordo dove non ero d'accordo quando ingiuriavano le figlie del presidente con i generi e quant'altro questi sono comportamenti che io non tollero però la situazione di Pescara per chi vive Pescara è questa è questa purtroppo e mi dispiace che sia così perché poi vedi adesso io ho fatto riferimento prima agli spareggi per riaccendere la fiammella dell'entusiasmo della gente ci vuole poco però mi sembra che ogni volta nel momento in cui c'è una piccola speranzella di poter ripartire accade sempre un qualche cosa e si risprofonda poi sempre nello stesso clima di questo sono molto molto dispiaciuto allora abbiamo la pubblicità qualche minuto poi torneremo in diretta torniamo in diretta e vediamo di analizzare la partita con l'Arezzo la partita è in trasferta mentre vediamo un messaggio buonasera francamente pensare di fare i playoff con questa squadra mi sembra esagerato purtroppo manca l'esperienza sono troppo giovani e anche troppo fragili un anno perso Ivano la politica dei giovani Giorgio è questo la fai o non la fai oppure a Pescara non c'è questa progettualità si fa a seconda di cosa allora io viene credo che abbiamo già detto all'inizio dell'anno cioè è una politica che hai potuto fare o tentare di fare e non è detto che finisca male perché siamo ancora a metà campionato perché hai puntato sulle capacità di Zeeman di far giocare questi ragazzi far giocare i giovani di fare un calcio offensivo un calcio spettacolare credo che come attacco non so se sei il primo ma è uno dei primi sicuramente come 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 gol fatto la puoi fare e logicamente prendi qualche giocatore è venuto qui definitivamente qualcun altro l'hai preso in prestito da squadre importanti e ogni tanto va bene ogni tanto va male il problema è se tu non riesci a fare il salto di categoria quest'anno l'anno prossimo 99 su 100 dovrai rifare un tipo di squadra simile perché insomma quest'estate io credo che ce la ricordiamo tutti i nostri annipoli che doveva venire qui e venne fuori la dichiarazione ufficiale della società per cui e loro chiedevano 70 mila euro e Pescara più di 30 40 non poteva spenderli oggi tu mi dicevi all'inizio della trasmissione hai detto che si poteva fare mercato dopo le uscite è chiaro che puoi fare un mercato ridotto nel senso che puoi andare a cercare dei giovani sfruttando le tue capacità come hanno fatto hanno trovato hanno trovato De Marco hanno trovato D'Agasso nelle giovanili hanno trovato dei giocatori e qualcuno in presto Moruzzi e via dicendo a Cornero quindi sono stati presi questi giocatori ma se non riesce a salire l'anno prossimo dovrai rincominciare da capo anche per quanto riguarda quello che dicevate prima sui tifosi al di là del ma è normale che i tifosi a furia di sentirsi dire cose all'inizio che poi non vengono mantenute possono perdere la calma voglio dire nel senso come diceva Silvio possono diventare esasperati ma no io credo che l'anno scorso c'è stato negli ultimi giorni credo due colpi di mercato che hanno portato a pescare a Raffia e Merola quindi migliorando quindi aspettiamo il 31 quando finirà il mercato o il primo il 31 non so quando finisce quest'anno e dopodiché vedremo se ci sarà stato un miglioramento e se saranno trovati quei giocatori che la stessa società dice che servono io una domanda volevo farti si è detto sempre che Pescara è una società con poco portafoglio nel senso che non ha grandi disponibilità economiche se però guardiamo la storia del Pescara degli ultimi anni vediamo che comunque ci sono state cessioni molto molto importanti anche molto che hanno portato alla società somme consistenti e grandi spese non ce ne sono state allora se facciamo un bilancio tra virgolette tra quello che la società tra diritti tra oneri pubblicitari eccetera ha incassato e quello che ha speso a occhio da profano a occhio sembra che ci sia comunque una differenza notevole a favore del Pescara io credo che a occhio io forse l'ho già detto l'altra volta facendo i conti della serva però negli anni dal 2011 l'anno in cui Zeman ha vinto il campionato fino al 2021 l'anno in cui Pescara è rimasto in B ci sono stati otto campionati di B e due campionati di Serie A che hanno portato quelli di Serie A mettono un pareggio perché magari sono stati spesi dei soldi per comprare dei giocatori come nel caso di Fiorillo di Verre poi però è stata ceduta la stessa cifra e di Benali 7 milioni ma è l'anno dopo Zeman quindi Biannason e un po' di altri adesso non mi vengono in mente tutti quanti certo qualcuno Vais Celic Jonathan Jonas Bianchi Arce Karagli insomma le sono venute un po' Abbegasis le spese è arrivato dopo Abbegasis è venuto l'anno di Serie B quindi io credo che tra tutto tra i contributi federali gli incassi il marketing è tutto credo che più di 120 130 135 milioni Pescara non abbia speso e credo che facendo un calcolo credo che possa tranquillamente affermare che le entrate sono state tra i 180 e i 200 milioni quindi credo che ci sia stato un avanzo di voglio rimanere basso 30 35 milioni ma secondo me sono stati anche di più e allora questo bilancio questo bilancio negativo forse c'erano dei problemi inizialmente dei conti della Serie C quando l'hanno vinta che so che avevano speso abbastanza per fare la Serie C può darsi adesso io parlo di questi dieci anni Silvio ma onore del vero secondo me non esiste dirigente al mondo che possa o voglia rispondere a questa domanda nel momento in cui si ipotizzano e Giorgio se parla in questo modo lo farà a ragionveduta delle o comunque dei tesoretti no? che siano che siano da qualche parte o da qualche altra parte sta di fatto che a mio avviso qualsiasi profano può capire con delle semplici addizioni che con i diritti televisivi i campionati soprattutto di Serie A le fugaci apparizione in Serie A quei soldi in ogni caso i paracaduti tutte le cose che esistono quei soldi non possono in alcun modo anche dopo anni far dire più di 30.000 euro non possiamo spendere ecco questo secondo me è proprio una contraddizione una contraddizione lampante a meno che poi questi soldi siano dati magari correttamente ci mancherebbe indirizzati altrove per quanto riguarda il problema spese cose di questo genere il problema mi sembra impossibile il Pineto le ha spesi 30.000 forse per San Nipoli il Pineto il problema è allora io francamente non me la sento di dire che se arrivava San Nipoli avremmo risolto i problemi però ecco il concetto è non tanto i 30.000 ma quanto nella tifoseria un mese fa di cosa si parlava dal punto di vista economico dell'ennesimo grande affare di questa società nella viaggio di Verratti verso la rabbia e qualcuno si era magari illuso che di quel paio di milioni o milione e mezzo che si pensava si sapeva si diceva io non ho visto documenti quindi non so quale fosse la cifra esatta ma neanche sappiamo se è arrivata eh vabbè però se tu contrattualmente hai diritto quelle cifre in qualche modo le puoi anche impegnare se sai che ti devono arrivare quindi in qualche modo puoi gestire sapendo di averli in patrimonio quindi il tifoso alla fine dice ma come deve arrivare un milione e mezzo due milioni si trovano non dico 30.000 si trovano 100.000 da investire su un giocatore che ti fa fare salte qualità poi magari l'anno scorso è successo così il raffiato di turno ti arriva gratis ma questo quindi non è detto che l'aspetto economico diventi decisivo però uno pensa ma magari quest'anno con i soldi di Verratti che non erano previsti ci facciamo qualcosina arrivi qua ti ritrovi che nell'ultimo mese hai fatto meno punti di una candidata alla retrocessione vedi che gli obiettivi di mercato svaniscono uno al giorno ammesso che siano stati mai obiettivi veri concreti molti nuovi perché io non lo so se questi sanipoli lo volevano per davvero se volevano qualcun altro insomma la realtà è che in questo clima il tifoso giustamente mi ti tieni Zeman quindi mi fai credere che vuoi vincere se non addirittura stravincere e dopo di che ci sono problemi da 30.000 da 20.000 euro io mi ricordo qualche anno fa qualcosa di 50.000 euro era rispoli che non no vabbè lì veramente ci stava tirando il pacco il Parma perché guadagnava molto e lì è stato no no ma voglio dire Sebastiano è stato molto sveglio perché loro volevano che noi ci accollassimo il contratto il contratto che era molto alto esatto e poi loro dice quest'estate noi in un'altra operazione ve li ridiamo se non che l'estate il Parma è fallito però ecco però il succo della vicenda è che alla fine si parla sempre di cifre non voglio dire banali perché nulla è banale però si parla di cifre gestibili e in tutte queste situazioni alla fine gli affari sono fatti qualche volta giustamente qualche altro meno giustamente ma quello che paga l'abbonamento in contanti e che quindi ti scommette sulla squadra ad agosto dici quanto vuoi da me 1000 euro 500 euro 300 euro 80 euro io te li do cash subito e tu in cambio mi dai troppe chiacchiere questo è il succo questo è torniamo alla comunicazione no tu in cambio mi dai illusione mi tengo Zeman e dopo ho problemi a dargli un centravanti magari e nei dati 3 mi sembra che mi ha fatto una dichiarazione o l'ho sentita male io che Tomasini lui non l'aveva chiesto o no o mi sbaglio l'ha fatto Zeman no forse non l'ho fatta voglio dire no no fino a ottobre fino a ottobre era un coro di elogi al mercato estivo perché era stato fatto beh io devo dire la verità per me i giocatori non sono male e non riescono a rendere tu l'hai detta la prima partita cioè è mancato questo centravanti famoso ma per il tipo di gioco voleva fare Zeman perché poi saremmo se no mi contraddirei se dico che Cupone Cupone ha fatto bene poi se dico che manca un centravanti però per il tipo di gioco ci voleva uno da 15 giorni ma anche uno che poi sappia dialogare molto bene con i compagni però onestamente se noi prendiamo i giocatori uno per uno che sono stati presi in queste spalle sono tutti all'altezza facciamo fatica a dire che non sono bravi forse come ha scritto quel signore sono giovani e in alcuni casi fragili e può succedere psicologicamente non hanno ancora le palle di uno sì ma ma la personalità il giocatore l'acquisisce anche giocando prima di tutto e poi con delle certezze se tu Tommasini lo tieni un mese e mezzo adesso torniamo lì lo tieni un mese e mezzo in Naftalina gioca fa gol alla fine del primo tempo lo levi hai costruito cosa hai costruito cosa se di Cuppone dopo una prestazione diciamo un po' meno brillante del solito mi dici sì sì corre corre ma non sa dove perché e la settimana dopo ti accorgi che non ne puoi fare a me non stai costruendo una squadra trapparello sì io se riprendiamo il gol di Torino di Torino di Alessandro di Cuppone di Cuppone è stata un'azione bellissima mi ero la Cuppone con doppio scambio e hai appoggiato la palla praticamente da un centimetro dalla porta quindi azione zemaniana molto zemaniana rapida veloce con l'uomo che va vorrei chiedere ad Alessandro noi stavamo parlando prima dei soldi del Catar dei soldi di Riverratti eccetera ma poi c'è anche il problema dei bond cosa ti dice questa cosa cioè insomma ci sono tante persone che stanno attendendo Alessandro diciamo l'emissione del bond evidentemente questo non è caccio matematica e finanza diciamo l'emissione del bond è stata una richiesta di liquidità però devo dire che è evidente che se una società emette un bond lo fa perché ha bisogno di denaro cioè se io fossi un investitore cioè investirei in titoli in borsa mi affiderei a un private banking ma di certo non andrei a investire su un bond di una società qualsiasi è stata è stata un'operazione fatta credo che chi abbia sottoscritto il bond fondamentalmente fosse stato anse consapevole che ci poteva anche essere il rischio che diciamo il rientro potesse essere posticipato sì è un'altra è un'altra come dire è un altro episodio di questa di questa storia del Pescara odierna mi sembra che anche il Genova abbia fatto un bond se non è romare perché anche lì sono legati un fondo però poi che ha 3-4 squadre poi hanno emesso un bond poi hanno avuto un processo per i tardati ma pagamenti diciamo che oggi come oggi il modello calcio sta cambiando e quindi siamo in una fase transitoria poi nello specifico della materia finanziaria io non mi voglio intromettere perché le cose non le conosco non le so di certo credo che a seguito delle ultime vicende del Tribunale credo che sui famosi bilanci andrà tutto voglio dire sarà tutto chiuso senza sapere se e come sono stati fatti quindi rimarrà rimarrà un qualche cosa che farà parte del passato e bisognerà necessariamente guardare al futuro allora devo dire che questa sera non c'è il collegamento con Alessia che è fuori quindi riprenderemo da venerdì prossimo vediamo a che punto è Manuel Caneggi con la vignetta allora la vignetta è stata terminata e diciamo ho fatto un po' una vignetta satirica comunque metaforica riguardante la sconfitta con il Perugio appunto qua possiamo vedere Zeman che dice Di Pasquale non quella porta e Di Pasquale aprendo la porta ovvero quella sbagliata facendo l'autogol precipita e porta diciamo con sé tutto il Pescara in questa diciamo sventurata partita è bella anche se naturalmente quello che è accaduto a Di Pasquale nel calcio accade spesso è stato un evidente infortunio un errore insomma la prestazione tra l'altro di Di Pasquale è stata anche sicuramente diversa è stata brillante è stata brillante infatti credo che non giocherà ho fatto una bella partita infatti mi aspetto che vada fuori squadra anche questa è ironia o no? sì ma non ho fatto lo striceo non ho fatto lo striceo allora vediamo un po' la formazione però l'ironia arriva molto dimmi dimmi no dicevo che il senso dell'umorismo e l'ironia sono molto più efficaci delle offese o delle urla sempre in ogni senso quindi anche questa situazione cioè a me rimarrà molto impressa più questa frase che le offese quindi poi il senso dell'umorismo l'ironia è sinonimo di intelligenza no? quindi poi volevo fare i complimenti questa sera a Giorgio perché oltre a grande conoscitore di calcio e ci allargisce consigli ma questa sera è un grande comunicatore perché io tra le righe sto cogliendo molti aspetti che mi stanno facendo sorridere quindi sta dicendo molto di più delle parole che pronuncia mi piace molto questa cosa ma sai qual è il problema Simone? che sempre lui è sempre così e sicuramente è un personaggio brillante oltre che è bravo per quanto riguarda il calcio non lo scopriamo oggi ma è brillante dice le cose dice le cose vere le cose che sente però non tutti riescono a capire quello che dice in particolare magari può esserci una persona che non ci riesce proprio a capire che non ci arriva in qualche modo Walter per quanto riguarda la partita con l'Arezzo allora Cornelo è infortunato Vergani in partenza quindi non so se sarà utilizzato meno anche questa volta e Tommasini è andato a Monopoli insomma l'attacco Cuppone diciamo la logica la logica ci suggerisce il terzetto tutto sommato più affidabile no Merola perché lo decide Zeman o perché sta già là pronto si è messo già la maglietta Cuppone perché i fatti dicono che è quello che se la cava meglio e Cangiano di là che a me personalmente piace anche più di a Cornero che pure diciamo è un ragazzino mica mica da disprezzare anzi e quindi l'attacco mi sembra fatto d'ufficio poi e poi naturalmente ci sta pure che ne vedremo qualcun altro in campo non non riesco a immaginare chi ma ci sta pure che vedremo qualcun altro in campo numericamente con fuori a Cornero solo solo Vergani c'è in più di questi tre si si no ma Masala alla destra si Masala l'altra alternativa a destra però ecco voglio dire col clima che se col clima no non è questione di clima con il comportamento vabbè oramai fai la formazione perché a metà campo chi c'è metà campo io allora visto che prima diciamo è stata apprezzata l'ironia almeno da qualcuno voglio spingermi oltre oggi mi hanno chiesto al bar allora domenica chi e io ho detto davanti quei tre che ho appena detto dietro più o meno giocheranno gli stessi non di domenica scorsa ma di due tre settimane fa cioè ritorna Mesic al 90% e il mister lo fa giocare e in mezzo è in mezzo detto aspettate l'estrazione dell'otto di sabato sera e facciamo il centro cazzo allora continuate ho esagerato me ne rendo conto Giorgio a questo punto lo stiamo dicendo già da diverse volte che cosa succede se il Pescara dovesse steccare che cosa succede abbiamo sempre detto ma le cose si complicano adesso c'è l'Arezzo che sta due punti dietro in caso di vittoria andrebbe avanti a Pescara insomma è una partita veramente delicata forse più delle altre ti devo dire la verità che io mentre guardavo Perugia Pescara Pescara Perugia mi sembravano veramente due squadre delle migliori del campionato sinceramente mi sono sembrate superiori di parecchio a molte delle altre ora l'Arezzo in questo momento ha fatto dieci punti ha vinto a Carrara quindi puoi pensare che sia però l'abbiamo vista ha giocato anche una buona partita a Pescara vincemo 3 a 0 una bella partita è certo devi stare attento adesso guardavate la classifica non devi fare troppi passi falsi uno dopo l'altro è logico quindi come diceva Silvio io ho fatto Fermana Juventus e quella prima ancora che non mi ricordo che anche quella non è andata bene è l'Ancora non mi ricordo insomma dicevo che si poteva fare anche nove punti ne sono venuti fuori due siamo stati smentiti totalmente siamo stati smentiti totalmente due due insomma sono pochi o tre o due sono due due su due quindi è chiaro che queste squadre chi le devi cercare di battere cioè il Pescara deve arrivare in una posizione migliore adesso come di qui si va bene Alessandro prima magari di terzo quattro non è molto importante però in una condizione anche di entusiasmo nettamente migliore di quella che ci può essere adesso quindi deve finire un campionato ma mancano ancora quante 17 partiti insomma 17 partiti alla fine sono tantissime per cui si può recuperare però l'importante è rivedere la squadra che faccia qualche risultato perché poi i risultati ti aiutano a giocare meglio più vinci più giochi bene giochi meglio quindi la squadra bisogna di fare qualche risultato e ritornare ad avere entusiasmo e allora a quel punto quelli che possono essere delle fragilità dei giovani diventano invece una componente nettamente superiore perché i ragazzi sull'entusiasmo fai fatica a giocarci contro non averli a giocarci contro fai fatica che vanno ai 300 all'ora dopo signor Arezzo guarda sono un po' in difficoltà perché tu mi chiedesti un pronostico della partita della della con Roma no sono illusi sono al 300% della parte di Murino su questo però lasciamo perdere perché altrimenti piango e anche se vogliamo i romanisti vogliono noi romanisti vogliamo molto bene a De Rossi solo una postilla no la del presidente Fredkin che pilota l'aereo il padre tanto decide tutto lui e che non parla mai e volevo capire però e lo dico all'esperto d'aeronautica quando pilota l'aereo poi lui deve parlare con la torre di controllo cioè lui parla solo con non è detto non è detto perché se lui pilota può darsi che la radio ce l'ha il secondo le comunicazioni aspetta il secondo il figlio va beh lasciamo perdere perché poi perché lì ci si divide i copi mi intristisco mi intristisco allora dissi che anche perché era nata una querelle avevo tristamente penso ragione sull'inadeguatezza della presenza delle squadre che poi sono due Under 23 nei campionati serie C che sono mangiano ed è capitato purtroppo con il Pescara dei punti episodicamente a questa o l'altra squadra e quindi falsano un po' i campionati perché questo e li falsano e poi il progetto secondo me rispetto poi alla Spagna che è un altro pianeta è fallito prima di nascere è un aborto federale e rimango della mia idea e dissi che se il Pescara non avesse vinto ad Alessandra se avrebbe stata una catastrofe ha perso per cui me ne sto zitto però attenzione all'Arezzo perché loro sì in questo momento giusto o sbagliato che si hanno entusiasmo il Pescara non lo ha lo deve recuperare posso dare una postilla su questo fatto delle Under 23 e se le facessero giocare senza fare classifica ed è quello che in effetti si poteva fare però lì o se facessero giocare tra di loro insomma non lo so secondo me così con me non va bene indipendentemente dal risultato del personale perché ha ragione perché poi a volte fanno esperimenti fanno giocare ma io non capisco non capisco perché noi accettiamo abbiamo accettato situazioni tipo il Salerno di Lotito il Bari di De Laurentiis e non ci e qualcuno le quattro squadre di Gauci le quattro squadre di Gauci e dopodiché ci discutiamo e vale la pena discuterne sia chiaro e vale la pena discutere delle seconde squadre le seconde squadre sono una situazione trasparente adesso giusto per dire un fatto che non è soggetto a interpretazioni la Juventus seconda squadra costretta a giocare ad Alessandria perché c'è questo regolamento che deve avere lo stadio di almeno X post che cosa sta facendo sta costruendo uno stadio da 5.000 e passa posti per farci giocare la squadra B quante squadre di serie C sono proprietarie di uno stadio da almeno 5.000 posti che poi mi do anche una risposta io conosco una società che non sta manco in C sta addirittura in eccellenza o anzi in promozione che ha uno stadio da 7.000 posti Castel di Sangro per farci che? per farci allenare il Napoli una settimana all'anno l'ECCO viene obbligata a dotarsi di uno stadio dopodiché l'investimento chi lo fa? l'ECCO il comune e l'anno prossimo se torna giù anche il Feralpi Salò non gioca a Salò deve giocare a Piacenza bravo allora voglio dire le seconde squadre a chi danno fastidio danno fastidio a quelli che vogliono continuare a giocare a spese nostre Pescara gioca all'Adriatico che piaccia o non piaccia lo manteniamo anche noi non gioca nel campo suo anche perché costa molto anche perché costa molto soprattutto dopodiché possiamo discutere di tutto secondo me le seconde squadre se vengono regolamentate in maniera seria come in Olanda come in Spagna come in Germania come in tanti posti le seconde squadre sono un modo per come dire per rinvigorire i cosiddetti vivai valorizzare i giovani evitare di spendere troppi soldi diciamo per coltivare speranze perché devi cercarli i giocatori nuovi e come ci dice la storia della Juventus di questi due anni se il progetto lo gestisci in maniera seria magari ti escono 6-7 giocatori da serie A questo è certo ma falsi quante altre società italiane hanno tirato fuori in due anni 6-7 giocatori da serie A ma tutto questo è bellissimo ma se non accade rimane sempre un corpo estraneo la presenza di una o due squadre in un campionato di serie C cioè lo falsano il campionato secondo voi ma no non falsano niente non possono rischiano seriamente di farlo comunque è il sistema che se ne è andato non voglio essere catastrofico ma è così e pensa siamo partiti dal pronostico di Arezzo Pescano una volta lo voglio dire ma poi questo è un problema minimo abbiamo scusami Silvio non me la posso tenere abbiamo trascorso più di un decennio a lodare la cantera del Barcellona che gioca la cantera del Madrid del Real Madrid che gioca e adesso che abbiamo diciamo un barlume di cantera fra Bergamo e Torino abbiamo iniziato a smontarlo io penso che ci riusciremo a smontarlo lo smonteremo perché perché funziona e se funziona quel giochino là molta gente nel calcio farà meno affari perché ci sarà meno gente che si presenta qui con due giovanotti presi in un soborgo di una cittadina dell'Africa e te lo portano con un documento fasullo che dice che ha 17 anni e magari ha 25 e te lo porta lì e tu lo cominci a girare tra una società e un'altra a colpi di milioni di euro si aprono scenari terribili allora torniamo ad Arezzo non me ne tengo un'anzia vabbè poi torniamo ad Arezzo ma veramente un'altra non la tengo avete visto le immagini di Napoli Fiorentina a Riad in Arabia Saudita per il nuovo meraviglioso format con le semifinali nella prostituzione più totale che va avanti da anni e che andrà avanti per contratto per molti altri anni ancora per giocare in Arabia Saudita dove ogni diritto sostanziale civile e tutto il resto è bandito Napoli Fiorentina c'erano degli spettatori distratti sicuramente meno di quelli che invece mi sono informato a pagamento assistono alle decapitazioni alle lapidazioni alle impiccagioni che bello su questo sottoscrivo che bello torniamo ad Arezzo torniamo ad Arezzo ma è bello Alessandro Arezzo Pescara che bello e il futuro vai vai Alessandro io o Alessandro qualcuno collegato ad Arezzo non ho capito scusa no 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 Alessandro tu Ah no Arezzo Pescara intanto si scontrano due allenatori molto giovani perché anche indiani mi sembro che sia sulla soglia dei 70 anni ed è una nota una nota di colore per essere ironici e il dato di fatto è che l'Arezzo ha subito 30 gol e quindi è una squadra vulnerabile penso che il Pescara possa possa di cui 11 in casa possa giocare sul tema del centro campo ho apprezzato l'ironia di l'ironia di di Walter io qualche partita del Pescara l'ho vista diciamo che i due giocatori che io non toccherei sono sono squizzato e Tuniovo poi e poi la mezzala sinistra è un giocatore che è sempre ruotato però effettivamente non va neanche bene che ad ogni partita cambi questo reparto sistematicamente questa è una nota sicuramente negativa della stagione di quest'anno spero e poi Alessandro la regia non ci ha inquadrato Walter che non annuiva non annuiva quando hai parlato di Tuniovo no io pensavo che dicesse squizzato era lui ecco no vabbè lì mi sembra che non li veda proprio l'allenatore coesistere però devo dirti che proprio nell'ottica che questa squadra come diceva correttamente Giorgio possa trovare diciamo un po' di risultati che la possano portare a questi spareggi diciamo col vento in poppa e credo che debba scegliere ormai siamo arrivati quasi a fermare lui deve scegliere i tre titolari di centrocampo non si può ogni domenica assistere a un turno il turno lo puoi fare se c'è le coppe se c'è le nazionali e quant'altro arriva un momento che a mio avviso devi fare delle scelte allora a questo punto Simone musicalmente come la situazione del Pescara con quale motivo la descriveresti una rapsodia una rapsodia che è un genere musicale che all'interno della stesura propone diversi temi che vanno da quelli un po' più intimisti a quelli più rocchettari la rapsodia più famosa è quella dei Queen Bohemian Rhapsody però ce ne sono anche della musica classica quindi questo saliscendi questo poco equilibrio che musicalmente è fatto proprio per andare a scavare ma forse Zeman lo fa per quello per andare a cercare di toccare tutte le parti tutti i sentimenti delle persone adesso a parte gli scherzi però è assolutamente una rapsodia poco zemaniana una squadra poco zemaniana ma questo l'avete detto molto meglio voi però ci lascia ben sperare non possiamo non sperare anche perché l'entusiasmo di cui parlava Giorgio prima mi permetto di fare una piccola un piccolo parallelismo con quello che sto facendo in questi giorni abbiamo dislocato lungo la città in molti angoli della città di Pescara diverse telecamere perché stiamo realizzando un progetto incredibile basato tutto sui giovani quindi adesso oggi parlavo con dei collaboratori scherzando per il fatto che per esempio molti ragazzi è un cortometraggio che stiamo facendo per la FIDAS quindi per la donazione del sangue e ho affidato il lavoro interamente ai giovani quindi mi devo prendere il loro entusiasmo come diceva Giorgio la loro carica ma anche le loro caratteristiche cioè scrivi a dei ragazzi agli attori o ai musicisti gli scrivi un messaggio la mattina ti rispondono quattro giorni dopo se lo fanno però lo devi mettere in conto quindi un po' come cioè se ho affidato un progetto del genere a questi attori e musicisti mi devo prendere l'entusiasmo che spero poi verrà fuori un progetto tra l'altro lo devo dire perché è giusto voluto dal presidente della FIDAS la grande Anna Di Carlo che porteremo sugli schermi tra breve e devo dire e chiudo se posso chiudere che questa sera è stata una serata spumeggiante mi posso permettere di dirlo perché mi hanno scritto anche come feedback alcune persone è stata una trasmissione davvero interessante in cui c'è stato il pescare c'è stato il calcio però c'è stata c'è stata l'intelligenza l'ironia e per ricollegarmi all'idolo di Silvio Sarta con una frase di Murigno abbiamo dimostrato questa sera che chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio allora chiudiamo con questa frase grazie a Simone Pavone e a Alessandro Alberti da Pescara grazie a voi grazie a voi ciao grazie agli ospiti qui in studio a Silvio Sarta Giorgio Leppetto Walter Nerone Manuel Carini per la vignetta grazie mille buonanotte il grazie più grande va alla regia che ci permette di andare in onda a Pietro Badassare e a Francesco Di Carlo abbiamo rivisto la vignetta di Manuel e a voi che ci seguite con tanto affetto da casa l'appuntamento è a venerdì prossimo sempre alle ore 21 buonanotte sono seduto sopra una panchina qui fermo ad aspettare e c'è un pallone sta viaggiando su un prato e quando arriva mi farà sudare ma dimmi quando arriverai sono così teso questa palla non arriva mai chissà che faccia che farai così felice sta alla televisione rimarre senza parole e clicca se seguici